Avrebbero usufruito di forniture elettriche con allacci abusivi per almeno quattro anni se residenti delle palazzine popolari di Scavone sarebbero riusciti ad avere l'energia elettrica senza però pagare i canoni dovuti alla società Servizio Elettrico Nazionale. I PME della procura hanno chiuso le indagini ottenendo il giudizio per tutti i coinvolti, sono accusati di furto e ne dovranno rispondere davanti al giudice del tribunale a novembre. Il danno economico ipotizzato per la società in totale supera almeno i 30.000 euro. Da quanto emerso ci sarebbero state delle manomissioni dei sistemi per consentire a certe utenze di avere l'energia elettrica in maniera però irregolare. L'attività di indagine ha toccato più periodi temporali e pare che siano state accertate le irregolarità. In dibattimento sarà possibile effettuare ulteriori approfondimenti. Gli imputati sono difesi dai legali Flavio Sinatra, Giovanna Cassara, Salvo Macri e Rosario Prudenti. Di recente i PME della procura hanno chiuso un altro filone di indagine su un'attività investigativa che però ha riguardato gli allacci alla rete idrica. Anche in quel caso sono stati posti sotto stretta osservazione diversi utenti compresi alcuni che vivono proprio nelle palazzine popolari di Scavone.